Ragazzi della serie che l'uomine è merde Ce n'è in abbondanza Avete letto sulla gazzetta dello sport, su Repubblica Di Miccoli, quel grande giocatore, grande, mica tanto Quel grande giocatore del Palermo Che è stato indagato per estorsione Sembra che per recuperare i soldi lui ha messo di mezzo la mafia E poi c'è stata un'intercettazione dove lui ha dato a Giovanni Falcone Lui a Giovanni Falcone Gli ha dato del fango, l'ha chiamato Fango Falcone E tu sei siciliano sei Comunque sembra che il presidente del Palermo gli ha chiesto di andarsene Working regress In tutti i sensi